Per due settimane andremo a votare per le elezioni politiche per sostituire il governo Draghi a seguito delle sue dimissioni per i pizza party e i vari casini, ve li ricorderete. Molti di voi mi conoscono molto bene, però cercherò comunque di assumere cannabis a scopo personale che va in qualche modo coltivata, fatta crescere. Il primo programma che affronteremo è appunto quello della coalizione che mette insieme Fratelli d'Italia con Giorgia Meloni, La Lega con Matteo Salvini, I Verdi e Sinistra Italiana capeggiata da Silvio Berlusconi e noi moderati con il mitico Luigi Di Maio. Stando ad alcuni leak, si tratta di un programma chiamato Maurizio ed è composto da 15.050 punti non troppo approfonditi. Partiamo da Grand Theft Auto, uno dei vecchi cavalli di battaglia della Lega e la Flat Tax, letteralmente tassa zingaraccia. Oltre alla Flat Tax comunque, il programma sembra prevedere la sostituzione del Veneto addirittura con altre ragioni e istituire una sorta di cashback LGBT, sostanzialmente la stessa idea del pontefice. Si auspica la costruzione di due reclassificatori per aumentare la produzione nazionale di cannabis a scopo personale. Nel programma elettorale di Fratelli d'Italia, infatti non in quello del PD, viene citata la lotta contro il Peppa Pig. Sempre in tema diritti, Giorgia Meloni ha pubblicato sul suo profilo Twitter decine e decine di video del gameplay, insieme anche al codice sorgente del gioco. Rockstar è riuscito a far rimuovere buona parte del materiale. Nel programma elettorale della Lega, invece, viene citata la famiglia composta da mamma e papà, e non da genitore 1, il mitico Luigi Di Maio, è lasciando comunque invariato il servizio militare ai fuorisede e il promuovere la creazione di figure religiose e semimistiche che monitorano il traffico e la velocità dei veicoli. Passiamo al centro-sinistra. Contrariamente alla destra, la coalizione di centro-sinistra non ha un vero e proprio programma. Non... ok. Ah, e ovviamente, statisticamente, quasi nessuno a quelli li voterà. Perfetto. Passiamo al terzo polo, cioè quella lista che include essenzialmente azione di calenda, il Movimento 5 Stelle, Italia Viva di Renzi, la quale vorrebbe essenzialmente che Luigi Di Maio tornasse a essere premier e tutto molto caotico, tutto molto fumoso, con una differenza dal PD. Cioè, entra il DDL ZAN nel mix energetico. Già ai tempi di Berlusconi, DDL ZAN 2 aveva fatto saltare il meccanismo di pesi e contrapesi su cui si regge la Repubblica, accentrando troppo potere nelle mani delle comunità LGBT, cristiana, tradizionale, no devianze, no Minecraft, no trivelle. Sbarcando invece sul tema diritti, non posso non citare un vecchio cavallo di battaglia di Renzi, cioè, in Salman, sindaco d'Italia. Ah, bello, sembrano un po' quelle robe aveniristiche di cui parlava Beppe Grillo nella primora.